Poteva essere catastrofico il bilancio della serie di carambole di auto coinvolte nella serata di ieri lungo la superstrada Fano-Grosseto a causa di due cordoni in materiale plastico duro finiti di traverso nella corsia di sorpasso della careggiata Montemare. Alle 20.45 al chilometro 93-900 poco dopo l'uscita di Sant'Ippolito le auto che si dirigevano verso Fano si sono trovate improvvisamente questi due ostacoli davanti alle ruote della macchina non potendo in alcun modo evitarli con le conseguenze che una ventina di auto hanno avuto cerchioni e gomme danneggiate irrimediabilmente. E alla piazzola di emergenza successiva ben presto si è formata una lunga processione di auto azzoppate come quella di Andrea Bolletta che stava rientrando a casa proprio a quell'ora dopo una giornata di lavoro in Umbria. Praticamente abbiamo riempito una piazzola di sosta di macchine con gomme furate quelle più basse praticamente avevano perdita di liquidi puntualmente coppa dell'olio rotta. I danni alle gomme adesso c'è anche una spesa da dover sopportare. Ti dico questo io le avevo cambiate sabato scorso 110 euro a gomma sono due gomme più il problema più grosso sono i cerchioni in lega che dovrò rifare da capo praticamente. Fortunatamente però solo danni alle auto e nessun tamponamento a catena o altro innescato dalle manovre e dagli sbandamenti delle auto senza più controllo che poteva causare il ferimento di diverse persone con un bilancio decisamente più pesante. Alle 21 dopo essere stata allertata alle 20.45 una pattuglia della stradale di Cagli è arrivata sul posto per regolamentare la situazione e mettere in sicurezza la superstrada eliminando i due pesanti cordoli dalla sede stradale. Da una prima valutazione si è capito come quei due pesanti delimitatori assicurati all'asfalto con due bolloni siano potuti finire in mezzo alla strada. Poco prima del luogo dell'incidente esiste un varco tra i New Jersey dove i veicoli erano posizionati. È probabile che un mezzo pesante abbia fatto una manovra di inversione di marcia passando attraverso il varco e sradicando e trascinando via dalla loro sede i due delimitatori con le conseguenze poi che si sono verificate. Gran parte delle auto hanno dovuto così far ricorso al carroattrezzi e malcapitati autisti raggiungere le loro destinazioni in modo alternativo. Gli agenti della stradale hanno altresì effettuato otto verbali per gli altrettanti veicoli danneggiati. Una serata conclusosi dopo due ore di trambusto ma che fortunatamente tutti possono raccontare. Grazie.